ciao ragazze questa è la parte numero 2 del video dedicato ai prodotti che ho venduto in campagna 5 iniziamo quindi con la mousse rinfrescante per i piedi con all'interno l'aloe che viene applicata spruzzando tramite l'applicatore direttamente sul piede la mousse è effervescente quindi noterete che quando andrete ad applicare il prodotto inizierà a scoppiettare come appunto se ci fosse un effervescenza in corso e poi voi andrete successivamente a massaggiare la parte interessata vi assicuro che l'effetto rinfrescante è immediato poi passiamo all'esfoliante per i piedi ai sali marini si tratta di uno scrub appunto per i piedi che voi andrete ad applicare sulla parte interessata e a massaggiare delicatamente per andare appunto ad esfoliare la pelle e a rimuovere le cellule morte infine vi mostro la crema intensiva per i calli e per i duroni vi ricordo che potete contattarmi in ogni momento sia per ordini che per informazioni aggiuntive e vi lascio tutti i miei contatti in descrizione